dobbiamo cercare di finire al meglio la stagione dobbiamo salvarci il prima possibile nella classifica dice che abbiamo anche la decima a tre punti quindi dobbiamo dobbiamo fare di tutto in questo finale per per raggiungere la fiorentina e per chiudere la pratica salvezza non so sicuramente quei tre giocatori davanti che non so se ci saranno meno gli spostano tanto il parma con loro senza di loro senza nulla togliere agli altri è un'altra squadra parlano anche i numeri proprio di gol fatti parma una squadra strana perché ha un gioco particolare sono molto organizzati però vivono appunto del delle fiammate di quei tre giocatori davanti che con le caratteristiche che hanno possono spostare una partita è una partita giusta in un momento giusto abbiamo le potenzialità per per battere il parma e per proiettarci in una posizione più comoda di classifica e guardare magari alla fiorentina all'inizio abbiamo stupito un po tutti perché non ci si aspettava che nel giro di due mesi da quando è arrivato il mister la squadra potesse aver assimilato in maniera così importante il suo gioco siamo stati un po una sorpresa anche per gli avversari credo ad essere sinceri le cose ci sono anche per merito nostro penso ma anche girate bene perché se andiamo analizzare le partite sicuramente abbiamo raccolto di più all'andata però penso che tolte le ultime due o tre partite dove abbiamo dimostrato di saper soffrire abbiamo dimostrato cuore ma a livello di prestazioni abbiamo fatto meglio al ritorno al ritorno mi sembra una squadra con più consapevolezza poi non siamo riusciti a raccogliere però la strada è giusta escludendo le partite con la sampdoria e l'empoli dove siamo stati noi giocatori a sbagliarle completamente penso di aver fatto delle buone stagioni anche gli anni passati l'anno che ci ha portato in Europa anche l'anno dell'Europa stessa però quest'anno magari per la richiesta che fa il mister a proposito del portiere penso di essermi messo parecchio in gioco e penso di aver fatto bene nell'esaudire diciamo le sue le sue richieste quindi sono sicuramente felice però penso sempre che si possa migliorare si possa sempre far meglio è una squadra che una squadra potenzialmente molto forte secondo me deve crescere perché tanti giovani in campo deve crescere più che dall'aspetto tecnico tattico deve crescere sulla mentalità dobbiamo essere bravi anche noi più grandi a coinvolgere maggiormente i ragazzi più giovani perché hanno delle potenzialità incredibili però devono essere bravi a rimanere attaccati su ogni partita pensare che ogni palla ogni situazione possa essere la più importante quello farà sì che possano avere il salto di qualità potenzialmente siamo forti penso che su questo gruppo si possa costruire un nuovo un nuovo ciclo se ripenso alla squadra che ci ha portato in Europa un paio d'anni fa c'erano tanti giocatori d'esperienza in campo questo un gruppo è un gruppo un po diverso un po più giovane però vedo più più potenzialità penso che la squadra si sia consolidata nel tempo dobbiamo raccogliere quello che che produciamo quello che si eminiamo dobbiamo crescere riattaccandomi al discorso di prima quando crei tanto quando metti una squadra nella metà campo nella sua metà campo è il pallino del gioco in mano devi portare a casa i punti quello è un processo di crescita che che dobbiamo velocizzare a più presto se andiamo a vedere delle squadre che che stanno facendo un campionato diverso dal nostro mi viene in mente l'Atalanta o la Sampdoria hanno un attaccante che ha fatto 20 gol a noi mancano questi gol anche se se devo essere sincero abbiamo dei giocatori davanti che non dico che debbano esplodere perché Ale comunque ha già matri ha già dimostrato il suo il suo potenziale ma Babacar soprattutto per me è un potenziale inespresso un giocatore giocatore fortissimo mi aspetto nonostante abbia già fatto parecchi gol mi aspetto da lui tanto perché è veramente un giocatore incredibile deve forse capirlo anche lui e spero che lo capisca presto perché ci può spostare tanto un giocatore così per quanto riguarda i gol questo è tornare al discorso di prima abbiamo un allenatore che fa giocare a squadra in un determinato modo ha delle posizioni ma che variano anche nel nella costruzione quindi si può trovare rogerio mezzala na mezzala terzino soli calcio giovane calcio del futuro e sassuolo c'è sempre abituati avere degli allenatori così e la strada secondo me quella giusta